Undicesima edizione di Pecorino e Pecorini, si torna a Farindola per questo appuntamento che ormai è diventato un classico di metà estate, la Bricciosa. Quest'anno, come ogni anno, ormai undicesima edizione di Pecorino e Pecorini, rimaniamo sempre sulla scia della scoperta gastronomica, del centro storico, della bellezza pasaggistica di tutto l'Abruzzo che a Farindola si rispecchia in quell'angolo di montagna che oggi vuole rinascere, vuole rifiorire. Con Pecorino e Pecorini cerchiamo di portare persone che possono apprezzare sia le nostre risorse gastronomiche che le nostre risorse ambientali, culturali e paesaggistiche. Previste degustazioni di vini, assaggi di formaggi, di miele e di altri prodotti tipici della nostra regione? Sì, come ogni anno ci discostiamo sempre dalla classica sagra perché noi siamo un dopo cena e cerchiamo con dei specialisti sommelier, con dei gourmet, di dare gli abbinamenti sui vini, sui formaggi e sulle altre tipicità come il miele, il cioccolato e soprattutto il nostro prodotto di nicchia, la stagionatura del Pecorino e di Farindola in favore di cacao e miele che quest'anno potranno essere degustate con una particolare selezione di prodotto e con diverse tipologie di stagionamento grazie ai maestro Centini e al vicepresidente del consorzio di tutela del Pecorino e di Farindola. Ci saranno oltre 20 cantine che esporranno i loro prodotti e tante aziende agricole abruzzesi? Tantissime aziende agricole rispondono ogni anno alla chiamata e abbiamo più di 20 cantine, produttori di formaggio di Pecorino e di Farindola, abbiamo 5 produttori di Pecorino e di Farindola, abbiamo produttori di salumi, cioccolato, miele e nello specifico poi abbiamo anche pane di Farindola, olio abruzzese di Farindola e soprattutto dobbiamo in questo caso ringraziare tutte le aziende ma anche i nostri sponsor e vorrei ringraziare in particolare il modo Abrex che ci dà e ci aiuta ogni anno a poter far sì che questo evento si svolga.